Siamo partiti un anno fa con il progetto Digital Lab all'ospedale Gaslini di Genova. Siamo poi passati nelle Marche all'ospedale Salesi di Ancona e adesso siamo qui a Trieste all'ospedale Burlo Garofalo e l'intenzione è quella di portare, di continuare questo nostro viaggio all'interno di tutti gli ospedali pediatrici della penisola. Il progetto Digital Lab che oggi siamo venuti ad inaugurare a Trieste prevede un coinvolgimento attivo e la partecipazione, l'essere parte di questo progetto di insegnanti, dottatori, docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola e anche del personale sanitario. Per questo motivo oggi siamo stati qui a Trieste ad avviare questo nuovo percorso di costruzione e di sostegno alla costruzione di una rete già avviata con l'istituto di ricerca carattere scientifico di Gaslini di Genova, l'ospedale di Uniti di Ancona in cui al centro è posto il bambino, una dimensione di cura di un soggetto in crescita che prevede l'educazione come elemento fondante, come dimensione propria di una cura integrale di una persona che si sta sviluppando e sta crescendo. Nessun bambino deve rimanere indietro, ogni bambino in ogni momento del proprio difficile percorso in ospedale dovrà essere parte di questo progetto, dovrà ricevere il nostro supporto. Siamo convinti che la scuola è un ospedale, che l'educazione in questi luoghi sia un forte elemento di cura e di speranza e per questo continueremo il nostro viaggio in giro per gli altri ospedali pediatrici d'Italia.